l'economia che riguardava la spiegazione delle simmetrie informative e in particolare uno vedeva il titolo, simmetrie informative, assicurazioni e l'esempio era che il consumatore aveva più informazioni dell'assicuratore, sorprendentemente, perché evidentemente lo facevano degli economisti che avevano in mente un mondo piuttosto che l'altro. Noi oggi siamo molto più propensi a pensare che la simmetria sia a favore dell'operatore. Mi trovavo giusto per leggerire in una assicurazione gigantesca italiana che mi faceva vedere che cosa possono tirare fuori dell'orbitata naturalmente mori totalmente aranimizzati, mi pare che abbiamo fatto vedere che tutti gli incidenti nei quali c'è una persona che ha più di 94 anni, il 100% di questi incidenti ha colpa della persona che ha più di 94 anni. Però a questo punto il 94enne deve essere lo stesso assicurato e in che forma, questo tipo di asimmetria in forma di 94enne non lo sa di essere in questa condizione, non lo sa. Quali sono le conseguenze della quantità di dati che si raccolgono adesso con le forme più diverse, comprese le scatole nere nelle automobili e il modo con il quale si sviluppa una forma di concorrenza rinnovata, insomma non soltanto a favore dell'operatore. Anche di questo è quello che vuole parlare da nera maniera. Sì, però intanto voglio un saluto della dottoressa Belluzzi che come è stato detto prima non è che non ha potuto partecipare e ringrazio per queste domande che siano veramente stimolanti e ci permettono anche con autorità di scambiarci idee e che comunque non chiediamoci, ci convolgono come utenti, quindi insisto che siamo tutti connessi con il resto del mondo e il rete. È vero che oggi il patrimonio informativo per le imprese, per esempio l'assicurazione è normalmente aumentato e nel settore assicurativo questo è particolarmente rivelante perché oltre al pubblico data e alle informazioni che si chiama parte di dare in social media che stanno anche orientando un po' la produzione, il disegno dei prodotti assicurativi che tengono sempre in più a rispondere al segmento dei consumatori ci sono i dispositivi connessi che cominciano a comparire nella maggior parte dei prodotti assicurativi, ci riferiamo appunto alle scambi primiere per le polizze auto ma anche alla domotica se pensiamo alle polizze casa, abitazione dove i sensori che rilevano le fute di gas e di allagamenti sono diventati importantissimi, alle polizze malattie con i braccialetti elettronici che rilevano i parametri vitali dell'assicurato. Questo nuovo patrimonio informativo consente quindi alle imprese non soltanto di ridisegnare i prodotti rendendoli anche più attraenti per il cliente e di spingere anche sul discorso della concorrenza tra imprese ma anche di disporre tutti quei dati, le informazioni per conoscere meglio i rischi, per poterli monitorare nel tempo e anche per mettere in campo tutte quelle azioni che si possono mettere in atto per ridurre sia la frequenza dei sinistri ma anche l'entità dei danni all'efficacia dei sinistri. c'è da dire che non è immaginabile ipotizzare che ci sia un azzeramento del rischio per le imprese di assicurazione perché nell'assicurazione in sé c'è un concetto molto forte di aleatorietà dell'elemento assicurato non è detto che l'elemento si edificerà e soprattutto non è neanche prevedibile l'entità dei sinistri. Questo per dire che la mutualità tra assicurati dovrà comunque rimanere e dovrà rimanere per rendere appetibile il prodotto assicurato. È inutile pensare, è immaginabile pensare che si possa chiedere 100, sono assicurato per dare 100 con certezza, la situazione sarebbe inutile, quello che si fa è appunto far pagare meno di 100 per poi dare 100 o più di 100 soltanto a coloro che studiranno in sinistro. Quello che quindi abbiamo, vediamo che questa innovazione tecnologica sta portando un vantaggio soprattutto sul piano della conoscenza del rischio da parte dell'assicuratore e della prevenzione dei sinistri. È un vantaggio economico che per chiudere il cerchio deve necessariamente traduzi anche in un vantaggio per il consumatore, magari attraverso il riconoscimento di sconti al rinnovo delle polizze, per esempio anche nel fornire servizi ulteriori, accessori che arrecchiscono il contratto assicurativo, la copertura assicurativa in senso stretto. Quindi diciamo che se da un lato c'è la colpulazione che ci siano fenomeni discriminatori che portino a escludere alcuni soggetti, dobbiamo anche pensare a quali sono i vantaggi che invece la tecnologia dà per l'ampliamento della platea degli assicurati, anche la dottoressa Bianco parlava un po' di questa possibilità di inclusione di ulteriori soggetti, l'inclusione ci può essere anche nell'assicurazione, oggi i diabetici sono esclusi per esempio dalle coverture assicurative, domani con un futuro ormai imminente i prodotti di calattia potranno essere offerti anche a queste categorie, da dove appunto ci sarà l'uso del braccialetto elettronico che manderà da remoto tutti i parametri vitali a centrali medico-operative che potranno intervenire rapidamente e quindi noi ci attendiamo e speriamo che ci ci sarà questo ampliamento. Naturalmente fenomeni discriminatori ci potranno essere nel settore assicurativo come in altri settori del resto, quello che crediamo che possano essere dei fenomeni patologici che naturalmente la vicinanza deve intercettare e deve sbagliare. È importante d'altro canto che anche gli utenti, gli assicurati si rendano partecipi di questa nuova era digitale non soltanto pretendendo la riservatezza, la protezione dei propri dati nel mentone in rete ma anche pretendano anche di conoscere come questi dati vengono utilizzati, quali sono i parametri e i comportamenti che le imprese valutano nella determinazione, nella valutazione del rischio e quindi nella determinazione dei loro premi e quindi appunto si faccia una parte attiva. Dal punto di vista IVAS noi siamo molto attenti al fenomeno del mondo digitale, abbiamo costituito all'interno un gruppo di lavoro che funge proprio da osservatorio di questi nuovi fenomeni, ci stiamo interrogando sugli effetti regolamentari da colmare e anche su come raffinare la sfidigianza. Segnalo che il prossimo 15 dicembre il proprio IVAS ha organizzato un convegno in Shurtek, il programma è disponibile a Stizio IVAS se qualcuno è interessato. Grazie. Qui poi naturalmente ci sono molti approfondimenti possibili ma propongo di andare avanti su CONSOV, il MIPID, sappiamo qual è il scopo, è una delle, come dire, regole che più precisamente vanno alla questione della consapevolezza per le persone che investono. Ora, la domanda che viene a noi è come fa un'autorità come la CONSOV a garantire, favorire il risparmiatore, l'investitore nella informazione che ha, essendo la CONSOV a affrontare delle aziende che hanno informazioni in quantità gigantesca che è fuori scala rispetto a qualunque autorità è comunque azienda locale e che possono giocare su una presenza internazionale, non sto dicendo un'ordinazione un po' proprio globale, tale per cui possono scegliere le regolamentazioni sulle quali appoggiarsi nella loro operatività e fare, diciamo, uso di una trasparenza tutta a loro favore. Grazie intanto per l'invito che inizia il CONSOV a formare, brevissime considerazioni prima di rispondere alla domanda del nostro mandatore. Ho avuto l'opportunità, prima con Maglia Gicom e tra l'ultimo, in ultimi anni CONSOV, di assistere e di partecipare a tutte delle precedenti occasioni in cui viene presentato il rapporto. E ho provato a sfogliare rapidamente la collezione. Si nota una cosa in modo molto evidente. I primi rapporti erano, insomma, il cagliere d'Oléans, che veniva raccolto nei confronti dei ritardi con cui le varie autorie che affrontavano e che in qualche modo partecipavano dei problemi consumeristiche era veramente importante. Poi si nota che negli anni probabilmente le cose sono cambiate e questo anche perché, e questo lo dico anche così dall'altra parte del tavolo, sicuramente la consapevolezza di questi problemi e anche l'operatività con cui si sono affrontati con regolamentazioni, decisioni su casi concreti, intensificazione dei rapporti con l'associazione di consumatori, ha un po' cambiato il tavolo. Effettivamente poi dagli ultimi rapporti quasi in momenti problemi ci sono ancora, ma quasi non emerge più questa problematica e anzi sì c'è una certa convergenza nello studio, nell'affrontare temi di carattere generale così importanti per le nostre comunità. Questo comunque è un dato di fatto e volevo rapidissimamente anche dare questo riconoscimento non solo a voi che ci lavorate tutti gli anni, ma anche poi a tutte le persone che lavorano con noi nelle nostre istituzioni che con grande lezione e molta professionalità hanno consentito che si possa fare questo. Sono state definite alta burocrazia io penso in senso positivo, nel senso nobile del termine perché secondo me hanno contribuito, stanno contribuendo molto alla modernizzazione di questo paese. Un'altra brevissima notazione partendo dalle parole del Presidente Soro, molto importanti, molto forti, i colossi ai tech. Certo è che non è solo la spaventosa quantità di dati che dispongono e che ci deve preoccupare, ma anche direbbe l'antitrust, il potere di mercato che hanno sui singoli mercati e dico io anche la enorme lera finanziaria che mostrano pochissimi dati, per la dire alle big file, cioè Amazon, Google, Facebook, Microsoft, insieme capitalizzano a Wall Street attualmente 3.500 miliardi di dollari, sostanzialmente di più dell'intero continente africano, poco di meno della Germania, più d'Italia, Russia, Francia, eccetera, non hanno debiti, al contrario nelle nostre economie, hanno 500 miliardi di dollari di liquidità. Quindi come dire, loro sono fortissimi nel loro business e guadagnano, hanno dei margini elevatissimi, ma in verità sono diventate delle nostre imprese finanziarie perché loro hanno da impiegare ogni anno centinaia di miliardi di dollari, comprano titoli, comprano di ogni genere, ricomprano i loro titoli, quindi sostenendo i corsi azionari e quindi arricchendo ulteriormente questa enormità dal punto di vista delle dimensioni economici. E chiaramente con i loro business che aumentano, con la possibilità di estendersi in mercati di contigui, di comprare start-up interessanti, quindi vuol dire c'è un enorme potere che non è più un potere solo di mercato. L'antitrust è nata nel 1890 con lo Sherman Act negli Stati Uniti per limitare l'allora enorme potere di mercato, i soldi che facevano le imprese ferroviarie. Quindi qui adesso abbiamo imprese invece globali, interdisciplinari che tranquillamente si allargano dappertutto e hanno in gioco forza ormai un impatto politico sulle nostre democrazie e sulla nostra solidarietà. Quindi questo è il punto che ci poneva il Presidente Sorra e secondo me questo è uno dei punti più rilevanti che non tutti le nostre istituzioni lo hanno trovato. Discorso Mifid, allora Mifid 1 che sarà in vigore fino al 31 dicembre effettivamente aveva quest'ottica di raccogliere dati dal cliente per in qualche modo cercare di poi attribuire una categoria e vendere un prodotto a lui con facente. Abbiamo visto che questo tipo di sistema ha avuto enormi problemi, non l'ha avuto solo da noi perché poi a livello europeo è stato cambiato il sistema, Mifid 2 sostanzialmente si occupa dell'altro lato, cioè della costruzione del prodotto e quindi cerca di incorporare nel prodotto delle tutele dei consumatori, quindi con una procedura monitorata dalle autorità della costruzione del prodotto e quindi da questo punto di vista poi. Però siamo ancora in un ambiente tradizionale, chiaramente la quantità di dati è importante eccetera. Qui effettivamente forse potrebbe essere interessante vedere ma sul versante FinTech che è più forse confacente all'argomento di cui ci occupiamo, come ci atteggiamo, che tipo di situazioni rileviamo eccetera, perché lì uno degli strumenti che sta nascendo adesso ancora ha un successo di mercato apparentemente piccolo ma con delle potenzialità enormi, della loro avviso, cioè la possibilità di avere degli algoritmi, delle app sostanzialmente che a cui ci si rivolge, che direttamente saltando tutta la consulenza e quindi mettendo ulteriormente problemi anche sul piano occupazionale perché una delle idee che era perseguita nel sistema bancario è in qualche modo di ruotare sulla consulenza il personale che agli sportelli osserva più. Tra un po' non servirà neanche più quello perché effettivamente questi sistemi sono molto semplici, interessanti, poco costosi, apparentemente neutrali perché ti chiedono ma dimmi tu, qui c'è un'interazione diretta quasi più attiva sembra da parte del cliente che invece allo sportello bancario si invitava magari a firmare rapidamente dei moduli con tutte le conseguenze che poi abbiamo visto. Qui c'è una procedura per cui se non rispondi non va avanti la cosa, quindi come dire comporta la tua attenzione e comunque gli dai ancora più dati, ancora più profondi, ancora più ampi di quelli che dovresti dare. E quindi da questo punto di vista questo è il futuro. Come si atteggiano appunto diceva il nostro numeratore, le autorità su questo tipo di fenomeni con la possibilità e il dovere di confrontarsi con queste situazioni di ampiezza e profondità di base dati che a certo punto non si riesce a controllare. Tutte le maggiori istituzioni internazionali che si occupano di finanza, la Ioscola, l'ESMA, la Sesta Commissione Europea da qualche anno hanno intrapreso una enorme profonda attività di studio, di analisi, consultazione pubblica e quindi come dire il fenomeno è sicuramente sotto osservazione, non solo, hanno stimolato le autorità nazionali e lo stanno facendo loro a dotarsi di importanti infrastrutture informatiche, competenze ingegneristiche perché poi alla fine la questione, tornando alla robot advisor, che l'algoritmo non è, potrebbe anche non essere neutrale, perché comunque dipende da come è costruito, perché se è costruito per favorire un determinato investimento, per favorire un determinato brand, chiaramente il consumatore non è in grado di percepire, quindi da questo punto di vista si stanno attrezzando a livello internazionale dell'autorità, ci stiamo attrezzando noi, noi per la prima volta abbiamo mandato un concorso per ingegneri non da destinare al presidio delle strutture informatiche, andando direttamente nella vigilanza, questo è un po' il futuro su cui ci stiamo confrontando perché è appunto il momento questo vuole. Grazie. 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 Il sistema delle responsabilità tra la banca e il consumatore, tra l'intermediario e l'investitore, è fino ad oggi abbastanza chiaro che è stata una posizione gestita per gli strumenti della Minfield 1, adesso un po' più richiede una strutturazione di intermediario un po' più all'altezza di queste cose forse, ma poi alla fine se andiamo alla giudice, chi abbiamo, chi convochiamo il giudizio. Io spero che si arrivi anche da parte del regolatore, messo che sia nelle forze del regolatore, ad avere più chiarezza su una cosa che è, ma questo vale anche per le assicurazioni, per le insulte e per tutto. E soprattutto chi glielo porta l'ingegnere a di luce. Consulenze tecniche, comunque attualmente dicevo che all'inizio le attività di robot live sono utilizzate in genere o da intermediari già presenti, quindi li utilizzano per in qualche modo necciare pure l'attività dei loro consulenti per avere un orientamento generale. Da perché ci sono già presenti sul mercato una utilizzazione inglese, in questo momento, delle attività che in qualche modo, diciamo così, direttamente vanno a... Quindi lì sicuramente bisogna andare a cercare il responsabile, l'impresa, il titolare che ha registrato, che attiva questa attività. Tra l'altro c'è da considerare che lavorando, lavora molto sulla propria reputazione, perché chiaramente non essendo appoggiata a un intermediario e dovendo garantire che era il proprio successo, perché poi alla fine questo tipo di situazioni, queste BIA singole vengono... Il loro rendito deriva semplicemente da un agonamento, da un agonamento appunto fatto, quindi vuole dire molto economico, magari, ne so, 10 euro di armonite dentro l'anno... Quindi vuol dire che non sono di grandissimo impatto economico. È chiaro che se poi dagli indici annuali hanno fatto perdere soldi, giuro subito, qui c'è anche questo, la sanzione del mercato. Mi sembra che l'argomento sia stato affrontato. Sono molto grato a chi ha fatto la ricerca per averla impostata in questa maniera. Credo che si sia visto che le autorità effettivamente stanno collaborando. Voi non lo avete, lo hanno fatto vedere di più, quello del precedente... Adesso non vorrei fare... Noi ci abbiamo la pubblicità della richiesta, noi ci assediamo... Troppe difficoltà politiche, però fondamentalmente il tema della collaborazione delle autorità con la cittadinanza, sia a livello di informazione che tra loro e a livello internazionale, si è vista in maniera diversa dall'abitudine a silos che avevamo in passato. Naturalmente la collaborazione con Marta è istituzionale e personale, assolutamente... E poi lei è uno che passa da un'autorità all'altra, incarna la facilità di... Non so se la mattina si è servita a tutti, a me sicuramente moltissimo e vi ringrazio quindi. Grazie mille. Siamo pronti, siamo pronti, oggi vita eh, a questo uomo pericoloso, pericolosissimo, poi accoggio, aspettiamo per indecca, ma che ti cerco? Cosa d'accordo? Cosa? Come va in un Paese? No, no, non sto nonna, allora, non sto nonna, non款's, c'è l' brightness, non ce lo piamo оно quello, abbiamo le giornate, Grazie.